È una bella emozione essere qui per aprire insieme la festa dell'Unità Nazionale del Partito Democratico a Ravenna, in Romagna. È stata la nostra scelta per continuare, come dal primo giorno, a stare al fianco dei territori, delle comunità colpite dall'Uvione e dalle frane di maggio, che ancora aspettano risposte, ancora aspettano di poter sapere le famiglie, le imprese, gli agricoltori quando arrivano i ristori che sono stati promessi dal Governo. Siamo qui per ascoltarne i bisogni, per metterci a disposizione concretamente di quelle richieste, sapendo che bisogna fare molto in fretta per permettere a queste persone, a questo territorio, di ripartire. È incredibile che ancora non vi siano stati i ristori da parte del Governo. Quello che hanno visto finora è stato anticipato dalla Regione, dalla Protezione Civile, ma c'è bisogno di riuscire ad accompagnare la ripresa in questo territorio. Non dimentichiamo le difficoltà di agricoltori che hanno perso tutto, hanno perso alberi da frutto che crescono in 4-5 anni e per questo periodo andranno sostenuti ed aiutati. Imprese che ancora non sanno come fare a periziare i propri danni. Quindi la scelta di essere qui con questa festa nazionale dell'unità è proprio una scelta di voler continuare a essere al fianco di questi territori e riuscire insieme a loro a sollecitare le risposte che servono nel tempo più breve possibile.